Buonasera a tutti sono Luigi Naracu se preferite e benvenuti su Final Fantasy 7 Remake Mi sembrano secoli Allora Va benissimo standard Facile Sto parlando con uno che ha fatto fuori ruby Chi conosce Final Fantasy 7 originale sa cosa vuol dire ruby weapon Non mi serve a nulla giocare a stun Ma facile Vediamo diretti cazzuti E cattivi E' un miracolo ma Non ho spoiler Ho solo un unico spoiler che mi son fatto Che ci sono missioni che vanno oltre la tram originale Per il resto non ho spoiler Penso che sia dalla Play 2 che la gente voleva questo Dalla Play 2 Che la gente altro non voleva che un remake fatto con i coglioni di sto gioco Grafica superiore al Ben Sildred Lo sentite Sarà diviso in tre parti Questo un pochino mi inquieta Però dai 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 Dove finirà? Questa è la mia domanda Cioè La mia Il mio timore E che finisca all'uscita da Midgar La mia speranza è che finisca con il primo CD Però so che è chiedertanto Sarebbe immenso come gioco finisse con il primo CD se fatto bene Un reattore bug? Non sono così emozionato da Ben Sildred Avrei voluto portare sul canale anche Final Fantasy 7 Il gioco originale sinceramente Però È stato rinviato Cioè ce l'ho anche per Play 4 Però alla fin fine Sono stati numerosi rinvii a quel progetto E quindi Ormai lo sta portando sub Porterei soltanto un gioco inferiore Seppur sia capace di fare una perfect run Non sono ai suoi livelli A Enelis O Erit Come preferite Piccolina Calcolate che la mia Play 4 Ha come Canzone La La Pure Earth Ho messo Ve lo dico Giapponese E Italiano Come Testi Chiedo scusa se inizio tardi questa serie ma Tra lavoro Il fatto che ci ha messo una settimana e mezza ad arrivare il gioco È altro un pochino ritardato rispetto a I pronostici base Versione rifatta e stramega figa della opening originale Sto impazzendo Per un fan Chi di voi sta giocando a questo gioco senza mai aver giocato l'originale Non può capire cosa vuol dire Non può capire cosa vuol dire finalmente essere qua Anche se è solo la parte 1 So anche poco Cioè non ho fatto neanche le Come si chiamano Le demo Quindi non ho presente il sistema di combattimento ma non l'ho chiaro in mente Ma guardatevi ragazzi Bentornati anche voi Figo come non mai Allora Telecamera libera Attacco libero Vado in pausa in automatico Col quadrato posso rompere le cose Attacco Attualmente dispongo di stonto quadrato come azione Andiamo un po' Barra ti è più figo che in Advent Children Allora per attaccare premi quadrato Tenendo premuto fai un attacco a UE Allora per attaccare La barra ti è più figo che in Advent Children La barra ti è più figo che in Advent Children Ok, quindi Abilità e magie premendo X Ah, ok Non mi serve Ok, carino il sistema Carino, carino Aggancia bersaglio, comandi rapidi Ora come vedo di HP automatica? No Menù principale Ok E mappa Ok, quindi Mappa Perfetto Menù Configurazione tattica Ah, bello Alla Kingdom Hearts Alla Kingdom Hearts, ok Archivio di battaglia Informazioni sui nemici Magie Ignis Ok Inventario Classico Stato Ci saranno le materie Mi sto come un bambino Voi non avete idea che cosa voglia dire Fai il fatto di 7 per me, ragazzi Voi non avete idea che cavolo voglia dire Fai il fatto di 7 per me Ok Perfetto Ok Parare R1 schivare Ok 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 Forzieri Forzieri con triangolo Ok Molto alla Kingdom Hearts Questo Kingdom Hearts Ha dato molto a sto gioco Ok 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 Ah, c'è poco da fare, sono come davvero un bambino al parco giochi in questo istante. Sento davvero un bambino al parco giochi. Non avete, non avete idea ragazzi. Non mi sembra che io sia un bambino al parco giochi. Allora, non mi sembra che io sia un bambino al parco giochi. Allora... Quanto è figo Barrett. Il papà di colore che tutti noi vorremmo. Allora... 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 Accordati che ti pago bene, vedi di non deludermi. Lo Scorpio? C'è lo Scorpione o no? No, dopo. È ancora presto. È ancora presto. Allora... 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 E' un momento un pochino luminosità. Ok, si corre come in Dark Soul. Va bene. Il cane mi preoccupa un pochino in realtà. Ok. 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 Dunque recupero HP non è immediato. E si c'è la materia. C'è la materia, vedete? Si vede addirittura nella spada. Che figata. Cambieranno le spy? Sì, assolutamente. Cioè è impossibile un cambio. Cioè se io mi metto un'arma X ci sarà di sicuro quella... Ok. Gli soldati fanno pene in confronto ai cani. C'è inquietantemente triste come cosa. Cioè... 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 Qualcosa intorno è un barrette incazzato e buone. Biggs. Vabbè Siamo abituati a stare soli, no Cloud? Ehm, addirittura E' leggerissimamente forte l'assetto pesante più leggerissimamente Il nostro lavoro è fondamentale Siamo abitissimi La Havalance Ci siamo? Allora Intanto questo episodio sarà come tutti i primi episodi corti Poi inizieranno le minate da due ore mie solite Questo episodio non penso dovrà chissà quanto Una medaglia muguri? Una medaglia muguri Cos'è la medaglia muguri? Ah un collezionabile Per il post game penso non lo troverò mai Non è come Kingdom Hearts Kingdom Hearts ho trovato anche se voi non l'avete potuto godere Tutto quanto senza usare Oh tifa Una delle cose più discusse Il fatto che gliel'hanno ridotte parecchio a tifa Sti flashback Già adesso Ottima scelta Come la carina l'olitifa Barrett è la figaggine fatta essere umano comunque C'è pochi cazzi Barrett l'hanno fatto ad un figo che è la metà basta Punto cioè non accetto Se ma mi mo mu Così D'ecchetto D'ecchetto Sti flashback D'ecchetto Sti flashback Di L'acchetto Rizzo Sì 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 Non ci scegliamo le miei come? Non ti rispettavo senza spazio! Tu... Ma... Machou la tua? Machou è il giro di questa il stride! Ma noi con il giro di tutti i braci che scivano questo cuore. Quindi... Ma questo! Di solito si sta ancora a stare? Eh? Che c'è la storia del giro... Barret, calmate! Quindi piantala di gridare Fa tanto il gradasso Ma il personaggio col cuore più d'oro Dopo Eris Dopo Eris Disiculpa Sennò di tua più di lei anche in alcuni sensi Grazie Grazie In azione Barrett Wallace A che distanza? Ok 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 no però Con sovraccarico Ok Capisco Bello Bella meccanica Per affrontare un cambio personaggio con Oh Oh Bello No Non mi piace che stia caricando Ignes Bello 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 Mi gusta Mi gusta la papaya Mi gusta Buono 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 Mi ricordo se viene detto Che il cognome di Barrett era Wallace Sapete Non me lo ricordo affatto questo Il naso è una bella Beh questo si lo puoi fare Tieni Ok Ok Amato Sono neanche correttamente Sono e che se soldi era è facile ma ci sta sia facile siamo nel tutorial del gioco ragazzi cosa devo chiedere che sia assurdamente difficile già adesso per ora va bene così vento principale corso ostacoli oh buongiorno mini boss non se lo smonto prima io non se lo smonto prima Coraccio! Allora, barra di estremo. E circa Final Fantasy XIII questo. Mi piace. Ok. Ho bisogno delle abilità. Però perché non provarle? Ok. 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 il salvataggio automatico non pare ci sia un punto di salvataggio non sapendo se ci sarà un punto di salvataggio mi curano dato che so che qua c'è il boss di sicuro ma comunque siamo molto vicini ok era meglio tenere cloud probabilmente abbastanza l'ho aperto in due ci siamo pronti a godere ragazzi perché tecnicamente qua penso si possa solo godere in una boss fight in un gioco simile ne ho visto alcuni spezzoni ma non ho ancora avuto il piacere ti fasi fida di te io ancora no è fantastico fantastico io l'adoro barrett long life to bar long life to barrett è un mito è fottutamente un mito cosa avrei visto per sicurezza per sicurezza c'è così da zero vuoi andare sul 20 buongiorno ok 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 siamo in tensione per sicurezza Ah, cazzo. Ok, attacchi non possono separare, ma si può vedere che cambiano personaggi. Ok, attacchi non possono separare, ma si può vedere che cambiano, ma si può vedere che cambiano, ma si può vedere che cambiano. Alla fine. Ok, attacchi non possono posare. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 vai ma no ma no ma non durante non puoi autore questionarti ok quindi ci sono le mutilazioni delle parti ok 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 ho buscato un po' ma è il primo boss il nuovo combat system non devo ancora farlo mio ok 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 ah ma inizia da... vabbè... io non pensavo iniziasse da adesso ci pensavo che contasse anche la fight contro contro il boss ... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok 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 Ah ma si blocca anche durante le cazze Vabbè a saperlo Ok 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 Grazie a tutti No, un po' è sbagliato Ehi, cavolo sei Il risultato è quasi finito, dirà Ehi Ehi Aspetta Come Cloud è fuori combattimento? Cloud Cloud Ho capito la solfa combattente, ce l'hai con Barret. Questa è leggera come personale. Mi busca molto più del previsto. Questa è un clon. Un po' di problemi. Lui è tranquillo come pochi. Marlene. Ah no, non aveva nulla in mano di Marlene. E niente ragazzi, direi che così può chiudersi il primo episodio. Siamo fuggiti e nel prossimo andremo avanti. Anche perché devo fare altre cose adesso. Quindi si può, penso, salvare. Save state libero, ok. E noi ci vediamo nel secondo episodio molto presto.